E' terminato l'incontro, 1 a 1 il risultato finale qui al comunale di Fara San Martino. Valle Aventino 1, Virtus Castelfrentano 1, il nostro marcatore Federico Tucci. Ecco i nostri condottieri, c'è Riccardo, torso nudo, bravo Riccardo, c'è Michele. Un pareggio 1 a 1 qua al comunale di Fara San Martino. Ecco Lontino, il nostro capitano. Ecco il camoscio d'Abruzzo, Enrico Caporale con numero 20, c'è il nostro mister Giovanni. Un bel pareggio qua sul comunale di Fara San Martino, tra le montagne. Una bella giornata con una temperatura ottimale, primaverile. Ecco c'è il mister Gabriele che qua ha lasciato un pezzo del suo cuore. Ha allenato sette anni qua. Il tuo piccolino? Sì, sì. A posto. Ciao. Buon bel lupo, mi raccomando. Ha ripreso tutto? Buon bel lupo. 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 Buon belupo.